L'Irlanda va al voto questo venerdì in un clima di incertezza, visto che secondo i sondaggi dalle urne non dovrebbe uscire una maggioranza chiara. Il paese si sta riprendendo dalla crisi del 2008 e ha uno dei tassi di crescita più elevati dell'Unione Europea, ma non tutti ne hanno sentito gli effetti e questo risultato è stato ottenuto con severe misure di austerità. Il leader del Sinn Féin attacca. Tutto ciò che è sbagliato nella nostra società è il risultato di decisioni prese dalle tre persone alla mia sinistra. Michael ha guidato l'autobus verso il burrone e ora rivuole le chiavi per risalirci sopra. Il premier e il vice premier prendono le decisioni, hanno fatto scelte sbagliate a sostegno dei ricchi anziché in favore dei lavoratori. Tra gli scenari ipotizzati dagli analisti per il dopovoto c'è l'ipotesi di un accordo tra Fianna Foyle e Fine Gael, un'alleanza senza precedenti tra gli eredi dei fronti avversari nella guerra civile del 1922-23. I sondaggi danno il 30% al Fine Gael del premier Enda Kenny contro il 20% del Fianna Foyle e il 15% del Sinn Féin. Ultimi nei sondaggi col 7% i Labour, protagonisti di proteste contro l'ottavo emendamento che rese incostituzionale l'aborto. Grazie a tutti.